che lo porteranno all'interno della chiesa che già abbiamo imparato a conoscere in questi minuti di attesa dell'arrivo di Papa Josef Ratzinger. Sentiamo dalle parole del parroco di Boticino Sera, Don Raffaele Licini, alcuni doni che vengono fatti al Santo Padre, prodotti di Boticino, dalle calze, abbiamo sentito, al vino e anche il pregiato marmo. Amare Dio, amare Cristo, amare la Madonna e questo amore dare agli altri, lavorare perché nasca un mondo fraterno nel quale ognuno vive non per sé ma per gli altri. Allora grazie per tutta questa accoglienza così calorosa, mi fa grande giovedere qui la chiesa viva e gioiosa. Vi auguro una buona domenica e tante buone cose per sempre. Auguri, grazie. Abbiamo sentito il Papa che ora si ferma a salutare alcuni parrocchiani di Boticino Sera, i bambini che abbiamo visto inquadrati sarà il secondo appuntamento di questa ricca giornata bresciana con Benedetto XVI.